E questa è la Gallipo che ti aspettavi stasera? Sì, sì, sappiamo che sarà difficile di giocare qui, soprattutto perché abbiamo fatto due giornate senza fare niente. Prima ieri abbiamo fatto il viaggio e poi dopo ieri abbiamo fatto niente perché c'era questa storia del test. Era difficile per noi di iniziare, di giocare. È un po' strano perché abbiamo iniziato molto bene. Poi dopo siamo un po' indormiti, abbiamo fatto qualche errori. Era un po' difficile, la squadra dell'avversario era molto dura, eravamo un po' surpriso. Alla fine abbiamo giocato bene, abbiamo ritrovato un po' di serenità. Sì, sono contento di questa partita perché è molto importante. È una partita che vi vale la qualificazione per la Coppa. Sicuramente è una grande soddisfazione. Sì, 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 è una grande soddisfazione. C'era ancora una partita e noi dobbiamo continuare a lavorare. È solo la seconda partita che facciamo insieme in questa contestazione. Io sono contento di avere vincere qui perché è molto bene iniziare una stagione con due partite vinte. Sono molto contento della squadra.